mio test è il primo sistema per la valutazione della performance muscolare che integra tutti i test e le misurazioni raccomandati dalla comunità scientifica per identificare quindi prevenire la sarcopenia restituisce misurazioni oggettive suggerisce consigli su stili di vita fornisce indicazioni a più livelli di completezza sull'integrazione alimentare più efficace per lo specifico soggetto in funzione dei suoi risultati e parametri è automatizzato fino al livello della spedizione della fattura è economico è ripetibile nel tempo per aiutare l'aderenza terapeutica e progressivamente migliorare la strategia il cuore del sistema è in cloud con algoritmi proprietari e device brevettati e altri brevettabili